Con il vicepresidente Lorenzo Manzi una vittoria fondamentale, meritata, contro una buona formazione e il rammarico aumenta. Secondo in classifica il Trestina non ha niente da invidiargli sicuramente il Follonica-Gavorrano. Ci tengo a fare complimenti a tutti i ragazzi perché noi siamo sempre molto duri con loro probabilmente perché le potenzialità di questa rosa le pensiamo di conoscerle. Si sono viste oggi perché abbiamo vinto con la seconda in classifica, aveva vinto mercoledì 5-0 quindi sì aveva il turno infrasettimanale ma era stata una partita relativamente semplice e credo che oggi si sia visto una differenza di valore in campo importante. Noi abbiamo forse l'1-0 un risultato stretto alla fine dei punti quindi complimenti a tutti. Un po' di rammarico però è un girone forse dove a parte il Trastevere è molto complicato, molto livellato dove le partite sono sempre complesse. Poi se non la sblocchi diventa molto pericolosa la partita quindi oggi complimenti a tutti per la prestazione svolta. Bene, ne è arrivato Stajano, è entrato bene in realtà anche Vai, ha avuto una grossa occasione. Le scelte societarie hanno rimodellato un pochino la rosa e l'obiettivo rimane sempre quello di salire nei piani alti. Noi le scelte societarie sono legate dalle richieste tecniche, l'unico vincolo societario è quello che per noi è un'azienda quindi va gestita come tale. Ci sono state delle uscite, sono state coperte o delle entrate che in realtà non erano altro che quello che c'era stato chiesto dal lato tecnico quindi non è stata nessuna operazione di ridimensionamento o cambio di piani. I piani sono sempre lo stesso, far bene e puntare ai piani alti. Quello che ci è stato chiesto, complimenti al direttore Vetrini perché ha centrato tutti gli obiettivi che c'eravamo posti a gennaio quindi credo che abbiamo limato una macchina che probabilmente era già di livello altissimo per i desideri degli allenatori quindi aspettiamo un girone di ritorno importante.